Ciao a tutti amici, oggi un altro interessante video di allenamento, test, in questo caso simulerò una situazione all'interno di un locale con un primo aggressore armato di coltello e un successivo che subentra armato di pistola o arma lunga, in questo caso un'eventuale macete bene, è fondamentale quindi, ricreò la situazione a tutti gli effetti, sto quindi mangiando sul tavolo un coltello, una porchetta, un bicchiere, quindi abituerò a livello manuale a prendere, a brandire e a utilizzare, in questo caso simulo che l'aggressore, una volta che mi proteggo e impianto la lama verso l'avversario primo, in qualche modo prendo la cintura, prendo una parte, mi disarmo, successivamente strago la pistola, prendo il primo bersaglio e il secondo che subentra, ok? e 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